Ricrazio tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo interessantissimo convegno che si sta rivelando veramente molto proficuo per ancora puntualizzare questa figura così nota ma poi alla fine nonostante le centinaia di disegni è ancora proprio per quello forse da studiare ancora e valorizzare e approfondire. Il 5 marzo del 1763 Winckelmann notava che a Parigi 300 inglesi erano in procinto di partire per Roma. La lunga stagione di pace che si andava profilando in Europa con la conclusione della guerra dei sette anni favoriva senza dubbio la pratica del viaggio in Italia al Grand Tour che almeno fino allo scoppio della rivoluzione francese vivrà una vera e propria età dell'oro con un'onda lunga che riprenderà dopo le guerre napoleoniche. Potremmo individuare già una prima folta schiera di artisti architetti viaggiatori britannici che anticipano comunque il loro soggiorno a Roma rispetto alla guerra dei sette anni. Tra il 46 e il 58, l'abbiamo visto anche prima con l'intervento del professor Rowan, arrivano tra gli altri, mischiando artisti architetti, Codzens, Hamilton, Chambers, Mill, Reynolds, Wilson, Adam, Byers, Jenkins, iniziano a sviluppare contatti e cerchie che si intrecciano propagandosi nei successivi tre decenni. Potremmo indicare il 1787 come anno di rallentamento di tale fenomeno quando giunge finalmente a Roma il già affermato Flaxman, chiudendo un ciclo continuo di spostamenti dei britannici ormai in atto perciò da quattro decenni. Un breve sceno alle diverse tipologie del viaggiatore britannico diretto a Roma del secondo settecento ce la fornisce Thomas Jones, che con la sua scrittura brillante e destrosa interpreta il punto di vista del cittadino romano. Cito Ho visto che i romani dividono i visitatori inglesi in tre ordini o gradi, come si fa in grammatica, con positivo, comparativo e superlativo. Il primo grado comprende gli artisti che vengono per studiare e perfezionarsi, traendo un profitto dal loro lavoro. Il secondo include quelli che chiamano mezzi cavalieri e in esso vanno collocati tutti coloro che vivono con una certa eleganza, senza lavorare, mantengono un servitore e di quando in quando frequentano il caffè degli inglesi. Ma i veri cavalieri o milordi inglesi sono quelli che si muovono in una sfera di splendida superiorità, circondati da gruppi di satelliti chiamati precettori, esperti d'arte, faccendieri, staglieri inglesi, valletti francesi e lacchei italiani. Per farla breve, elemento per essere catalogato come autentico gentiluomo inglese è la possibilità di mantenere un equipaggio con tutti gli annessi. Le complesse dinamiche relative alle vicende dei viaggiatori inglesi sono ricostruite nel noto lavoro che Ingemels ha compiuto sull'archivio Brinsley Fort, dal quale emergono rilevanti notizie circa i luoghi di residenza e di attività degli oltre 3.000 tra agenti, nobili, pittori, architetti e scultori scienziati, buona parte dei quali abita, si muove, lavora, uno a un passo dall'altro, nella zona orientale del cosiddetto diridente di Campo Marzio. Il fito tessuto compreso tra Ripetta e Trinità dei Monti ospita buona parte degli artisti stranieri, specialmente i britannici, con la netta tendenza a risiedere nel triangolo formato dalle strade Corso, Babuino e Condotti, che vede nella piazza di Spagna il luogoletto, tanto da essere definito Ghetto degli Inglesi, caratteristica che manterrà fino a 800 inoltrato. Uno stretto rapporto sociale, facilitato nelle strade del tridente da vicinanze fisiche, culturali e economiche, si instaura tra committenti, artisti, architetti, mercanti e artigiani romani, con i viaggiatori di passaggio o con altri destinati a soggiorare più a lungo o ancora con coloro che hanno deciso di svolgere stabilmente nell'urbe attività artistica o di mercato antiquario, divenendo essi stessi personaggi di riferimento culturale, ciceroni, agenti e possibili referenti commerciali. In una rapida carrellata, vediamo dislocati nelle posizioni nevralgiche del tridente, gli studi dei maggiori artisti romani a stretto contatto con i cosiddetti musei, di Jenkins al Corso, di Hamilton a Strada della Croce, di Byers e di Morrison nella parallela a Strada Vittoria, a pochi passi dagli studi open, per così dire, di Batoni e Cavaceppi, solo per citarne alcuni, e anche da personaggi al limite della legalità, come il banchiere e procacciatore Francesco Barazzi. Lo stesso fenomeno, ma a carattere decisamente elitario, potremmo dire, ancor più evidente perché concentrato principalmente in due isolati, si registra nella parte alta di Trinità dei Monti, con il polo di Palazzo Zuccari, che a metà Settecento inizia a registrare schiere di artisti residenti, i quali allargono le cerche coinvolgendo tutto l'isolato su via Gregoriana e via Sistina, nonché quello prospicente e adiacente alla chiesa, sino alla zona di Capolecase, dove la presenza di Villa Malta media il passaggio tra la zona abitata e le ville verso e oltre Porta Pinciana. Qui troviamo, a contatto di gomito, e cito solo i più noti, Reynolds e Wilson, poi David Allen e Northcott, che definisce Palazzo Zuccari the pleasantest part of all Rome. I loro studi sono a pochi metri da quelli di Labruzzi, di Piranesi, di Angelica Kaufman, di Pacetti. Ma il luogo di riferimento, equidistante dalle strade dove si concentrano le residenze e studi, era sicuramente il caffè dell'inglese in Piazza di Spagna, che sappiamo Quarenghi chiamava Il Mio Caffè, esistente almeno sin dalla metà del secolo, ben prima della famosa decorazione di Piranesi, più antico del noto caffè greco in strada condotti. Sappiamo che in un appartamento sopra la English Coffee House risiedono nel 1751 Joshua Reynolds e Thomas Patch, prima di trasferirsi nell'altro luogo eletto di Palazzo Zuccari. L'anno seguente Richard Wilson firma il suo tacchino di disegni con la dicitura al caffè degli inglesi nella Piazza di Spagna, usando spesso il locale come recapito personale. Quando 25 anni dopo arriva a Roma, Thomas Jones, scendendo alla Germanaus in via Condotti, viene accompagnato da Norton e Byers nel caffè, dove trova la sua acquaintance londinese, i suoi amici, Pars, Humphrey, Darno, Moore, Cousins, Banks, e viene presentato e conosce per la prima volta Fusli, Tresham, Jutson e Gnalti. Più volte Thomas Jones cita il caffè, come diremo più avanti, rivelando aneddoti di vita quotidiana, anche tragici, come quello dell'ultima bevuta di Punch, con gli amici di che Gnalti quasi moribondo vuole fare nel locale, prima di congedarsi per sempre al giugno del 78. Nonostante la notorietà e la centralità del luogo, icona e simbolo, sebbene la demoniazione connoti un risvolto nazionalistico di quel carattere cosmopolita, come ieri sottolineava Maria Pia Donato, la storiografia non ha avuto sino ora elementi sufficienti per ricostruire fedelmente la storia edilizia e il reale assetto del locale, anche dopo il progetto di decorazione dovuto a Piranesi. La stessa localizzazione, sempre individuata in angolo con strada delle carrozze, ma studiosi autorevoli lo collocano addirittura nei pressi di via Frattina, non è assolutamente sicura. Si cercherà brevemente di chiarirla in questa sede, con alcune nuove acquisizioni e più accurate riflessioni sui pochi documenti che allo stato attuale si hanno a disposizione. L'ubbicazione. Il noto di disegno di David Allen, pur con un'inquadratura ribaltata, pur con un'inquadratura ribaltata perché preparatorio per un'incisione, quindi lo abbiamo ribaltato di 180 gradi, ci fornisce una prima fondamentale indicazione. Il caffè era sicuramente ubicato nell'isola compresa tra via delle carrozze e via della croce, ma non propriamente all'angolo, come tutte le fonti a stampa riportano, confondendolo con il vicino caffè Nazzarri, o detto anche del buon gusto, bensì adiacente o di un'altra casa posta al cantone con via delle carrozze. Nel catastro redatto da Carlo Bizzaccheri nel 1700 1112, per il monastero di San Silvestro in Capite, proprietario dei fondi infitudici presenti nell'isolato, è annotato tra gli atti relativi a questa casa che il proprietario Giovanni Maccarati nel 1769 fece donazione di tutti i suoi beni al priore dell'ordine di Malta, Antonio Vaini, beni che passarono direttamente alla religione di Malta, come confermano anche ancora i brogliardi di metà 800, dove infatti la casa è assegnata al patrimonio Cavalieri. Tuttavia, già nel 1744, perciò 25 anni prima l'atto, nelle assegni dei beni la casa risulta nome della religione di Malta, evidentemente per accordi con il Maccarati ancora non ratificati e registrati in atti notarli. L'imbobile, perciò nel 44, viene descritto come composto da una bottega ad uso di caffè e tre appartamenti ai piani superiori, come provato pochi anni dopo anche dalle notizie provenienti dai diari di Reynolds e Patch, che non solo frequentano il locale ma vi risiedono ai piani superiori. Le assegni dei beni del 64 e del 93 confermano la presenza della bottega ad uso di caffè gestita dall'affittuario tale Giuseppe Gualini. La datazione della ristrutturazione. Anche nei contributi più recenti su Piranesi, tutti gli studi anche ultimi di Mario Bevilacqua, si trova una datazione dei lavori tra il 1765 e il 67. Effettivamente dicembre del 67 può essere posto come termine antequem, perché in tale data l'architetto tedesco Christian Trago Weinlich vede le decorazioni piranesiane, ma alla luce dei documenti che attestano la proprietà dell'Ordine di Malta ben prima del 64 è possibile che i lavori siano stati realizzati anche anteriormente, ricadendo comunque nell'ambito della committenza rezzonico Ordine di Malta. Oltre al dubbio riguardo all'effettivo anno di realizzazione delle decorazioni, che probabilmente non hanno lasciato traccia contrattuale, specie se come probabilmente non hanno interessato lavori di muratura, permane quello sull'anno della loro scomparsa, che secondo alcune fonti si potrebbe datare al periodo del governo napoleonico. Per quanto riguarda l'assetto dell'interno del caffè, allo stato attuale ci si deve basare ancora unicamente sulle due note incisioni che Piranesi, e questa è una, che Piranesi inserisce nelle diverse maniere del 69, opera dedicata a Giovan Battista Rezzonico, gran priore della religione di Malta. Thomas Jones, il 29 novembre del 76, ci restituisce un'impareggiabile descrizione dell'atmosfera che regnava nel locale, non fornendoci però dati decisivi per comprendere lo spazio interno. Scrive Jones, per trovare un po' di sollievo dalle giornate fredde e piovose, l'unica alternativa consisteva nello scappare al caffè degli inglesi, una sudicia stanza avvolta con le pareti affrescate con sfingi, obelischi e piramidi sul modello dei disegni fantastici di Piranesi, che meglio avrebbero adornato un sepolcroggizio che una sala di conversazione. Qui, seduti attorno a un bracere acceso sistemato al centro, cercavamo di stare in allegria per un'ora o due, bevendo una tassa di caffè, un bicchiere di punch, per poi cercare, a tentoni, la strada di casa nel buio, nella solitudine, nel silenzio. Non è dato sapere l'esatta obbligazione di questa sudicia stanza avvolta piranesiana, se fosse posta direttamente all'entrata e quindi visibile da piazza di Spagna o, per così dire, nel retro della bottega, a carattere quindi più intimo e riservato, sempre che l'impianto, dopo la ristrutturazione, avesse mantenuto la soluzione a doppio vano descritta nel disegno del bizzacchiere. Che ricordo è del 12, quando la bottega non era ancora ad uso di caffè. I rapporti dimensionali delle due tavole di Piranesi, trattandosi di sezioni, una trasversale e una longitudinale, farebbero optare per un vano di forma rettangolare non eccessivamente allungata, che potrebbe corrispondere all'ambiente di entrata aperto sulla piazza. Ma l'unico documento che potrebbe veramente far chiarezza in tal senso è un disegno documentato di Vincenzo Rubiliard, un pittore che è poco noto, allievo di William Perry, ma in contatto con Paterthorpe e con Richard Norris, che nel suo diario lo si chiama Rombiliardi, forse era un italiano in effetti, un Vincenzo Rombiliardi, poi Rubiliardi, che va a Londra nel 75, espone il disegno nel 77 alla Royal Academy, e disegno che viene citato ed è conosciuto anche da Thomas Jones, che però disegno che al momento, spero possa uscire, ma al momento è irreperibile. Il caffè dell'inglese e le altre strutture ricettive disseminate a poca distanza in piazze di Spagna e lungo le vie decenti, costituivano i punti di ritrovo preferiti, dove le cerchie di artisti si confrontavano in incontri conviviali, organizzavano visite a musei, monumenti, scavi di antichità, programmavano le serate da trascorrere a teatro o in case e palazzi dove si ascoltava musica e si tenevano accademie domestiche. Tra questi luoghi vale la pena di citare ad esempio il Palazzo Gentili del Drago, a cui a pochi passi, in via Narcione, dove si teneva il salotto della Marchesa Sparapanibo Capaduli, non ritrovo di puro, di mondanità, priva di sostanza, ma luogo accogliente, arredato con mobili disegnati da piranesi, nobilitato dalla presenza costante e culturalmente fattiva di Alessandro Verri, frequentato da letterati, scienziati, artisti, come è già ricordato della lande. O semplicemente i gruppi di intellettuali e artisti si incontravano nelle accademie serali organizzate esaltuariamente, come quelle di Ozzie Humphrey nella sua abitazione in strada felice. Dagli anni Sessanta sino ai primi anni del pontificato Braschi, periodo coincidente con il soggiorno romano di Quarenghi, Jenkins e soprattutto Hamilton conducono in accordo con lo Stato una serie di scavi all'interno della città del surburbio. Dall'autorevole fonte di Onsby e Beniamini risultano in ordine cronologico scavi all'isola Tiberina, a Porta Fabbrica, nell'area della chiesa di San Francesco di Paola, a Villa Fonseca, alla Polveriera sul Palatino, infine nelle ville Negroni e Mandosi. A queste si aggiungano le esplorazioni della Domus Aura di Cameron, Smugle, Vizzebrenna, i contatti di quest'ultimo con Townley, le documentate visite nel suburbio, a Tivoli, a Castelli Romani, lungo Lappia, che ad esempio Quarenghi compie con Norris, Harrison, Thresham, Lewis, Hardwick e Jones. Ma c'è un altro luogo che Quarenghi potrebbe aver frequentato attraverso i suoi contatti britannici. Questo è un disegno famoso di Quarenghi del muro della Villa Negroni, esterno alla Villa Negroni, mentre Jones ci fa vedere gli scavi che poi saranno fonte di questi disegni incisioni di buti. Dicevo, un altro luogo che Quarenghi potrebbe aver visitato e frequentato, perché così in stretto contatto con i britannici, potrebbe essere la vigna del collegio inglese. Posta alle falde del Palatino, all'imbocco della cosiddetta Valle delle Camene, di fronte alla chiesa di San Gregorio. Oltre all'austera sede centrale, che qui vediamo, dove aveva studiato e insegnato Pater Thorpe, ubicata nei pressi di Piazza Farnese e che nel 1700 era stato oggetto di un raffinato progetto di Andrea Pozzo, rimasto sulla carta, oltre alle circa 50 case distribuite in diverse rioni, il collegio possedeva un'ampia vigna, almeno dal 1630, data del catasto redatto da Orazio Torriani. La vigna, rappresentata anche da Piranesi, comprendeva al suo interno diversi manufatti, per la maggior parte ricavati all'interno di strutture romane, con una fabbrica principale che si attestava verso il sito del Circo Massimo, contenente tra l'altro cappella, refettorio, cucina e vari ambienti, tra i quali al pian terreno un'osteria. Citata nelle disquisizioni archeologiche di Fea, Guattani, Nibbi e Lanciani, essendo situate in prossimità del sedime su cui si alzava il Septizionium, si vede all'incisione di Operac, la vigna è frequentata da Thomas Jones, che il 21 maggio del 78 vi disegna la veduta verso il Colosseo da un punto di vista inusuale, proto e poco praticato. L'interesse per il luogo era stato testimoniato anche da Piranesi, che nelle antichità romane lo rappresenta rilevando altre logge parimente di Nerone risarcite da diversi principi. Queste servono di fienili confinante con la vigna del collegio inglese, che qui Jones, in un disegno preparatorio a matita e poi in un quadro a correllato, ci mostra con questa, diciamo, avvicinandosi sempre più o mettendosi con punti di vista differenziati verso il Colosseo ancora da restaurare con, ovviamente, i seguenti restauri che si avranno con Sterne e Valadie. Tra le rare immagini con inquadratura analoga emerge l'acquaforte di Luigi Rossini, che l'autore intitola, questa qui in basso, intitola Veduta presa sul Palatino negli orti britannici, dove tra l'altro registra la sistemazione a parco pubblico del Celi, iniziata durante l'amministrazione francese sul disegno di Giuseppe Camporese, e ancora in corso nel 1927, data del disegno. Va notato che la posizione della vigna risultava strategica, e non solo per la contiguità con le sostruzioni del palazzo imperiale. Da lì iniziava il percorso che, lasciato il centro abitato, conduceva a Porta San Sebastiano, proseguendo per la dirittrice dell'Abbia, una meta di visite che, seguendo le note incisioni di Piranesi in Antichità Romane del 1956, dagli anni Sessanta diventano veri e propri pellegrinaggi verso una scoperta dell'antico. Ma la conoscenza e il confronto con l'universale civiltà degli antichi in questa generazione attiva negli anni Cinquanta-Ottanta del Settecento si declina anche attraverso il confronto diretto con la natura, specie per la schiera di artisti stranieri più colti e aggiornati, come sono quelli frequentati da Quaringhi. Attraverso la conoscenza delle stampe di Duguet, diffuse in Inghilterra già negli anni Quaranta, artisti come Wilson o Skelton interpretano il paesaggio romano spesso in forma di capriccio, tema frequente anche in Quaringhi, ne ho scelto uno dei tanti che lui ha realizzato, che forse, come si è più volte sottolineato in queste giornate, nell'incertezza della professione dalla fine degli anni Sessanta produce composizioni particolarmente apprezzate proprio dai britannici, che insieme ai rilievi costituivano la sua maggiore, o forse unica, fonte di guadagno. Il suo amico Jones, ancora più inclina di itinerari sui colli albani, spesso convergenti verso la villa di Jenkins a Castel Gandolfo, più tardi frequentata anche da Goethe, scrive «Questo paese sembra fatto apposta dalla natura, per lo studio del pittore di paesaggio, ogni scena mi sembra di averla già vista in sogno, sembra una terra magica». La sua immagine, la sua famosa espressione di Magic Land, deriva degli incessanti sopralluoghi che compie con differenti amici e compagni di viaggio. Jones va con Quaringhi e Hardwick l'11 novembre del 77 a Villa Adriana per studiare, scrive, «le proporzioni di alcune stanze e fare diversi bozzetti, tornando il giorno dopo e proseguendo per la tomba di Plauto». Si trattiene per altri sei giorni, sempre ospite di questa locanda Storabotti, la stessa che cinque anni prima aveva frequentato Quaringhi con Norris, Valdre e Lewis. Jones dipinge poi le cascate grandi, la grotta di Nettuno, l'acquedotto Claudio, prima di soffermarsi su una minuziosa descrizione dei caratteri e della varietà del paesaggio laziale, inserisce una notazione che, a 250 anni di distanza, sembra scritta su misura per alcuni turisti di oggi, riguardo ad alcuni inglesi che in un solo giorno avevano visitato tutta Tivoli e Villa Adriana. Dice, «per gente così, e sono tanti, vedere Roma e dintorni è una specie di dovere da sbrigare nel più breve tempo possibile». Tivoli, amata particolarmente ormai da buona parte degli stranieri di passaggio a Roma, che ben conoscevano le incisioni di Peranesi, o, nella cerchia britannica, i disegni di Adam e Clérissot, a Villa Adriana. E mentre Quarenghi disegna l'architettura con Hardwick, e credo ci sia molto ancora da riflettere su una probabile influenza nei riguardi di Son, Jones guarda Tivoli e poi i Colli Albani, elogiandone nelle sue memorie non tanto i resti dell'architettura antica, quanto l'orrida grandezza, gli abissi, le cime, le grotte, tutte quelle asperità naturali dove trovano posto le antiche vestigia. Capitolo, diciamo, dedicato agli spettacoli e alla musica. È nota la passione per la musica di Quarenghi, testimoniata in diverse occasioni nel suo epistolario, nella vivace descrizione del Bergamasco trasmessa da Patre Torpa, da Rundel, passione che probabilmente trasmise e condivise con la cerchia più stretta di amicizie, come riportato nei diari di Norris. La frequentazione di teatri che a Roma erano aperte stabilmente solo nel periodo del Carnevale, si alternava specie nei restanti periodi dell'anno con serate musicali, organizzate in residenze private o con l'ascolto di oratori, precisamente, stando nelle notizie del Norris, nelle chiesi di San Giacomo degli Spagnoli, Santa Caterina e ovviamente la Chiesa Nuova. Ad esempio, una particolare predilezione di Quarenghi per le musiche dell'amico Iommelli, che definisce primo luminare e ristauratore della moderna musica, potrebbe aver spinto il gruppo di amici al teatro di Pallacorda il 3 febbraio del 71, quando nella piccola struttura linea, ideata nel 1714 dalla Nicola Michetti e ricavata nel cortile di Palazzo Cartelli, assistono all'amante cacciatore, intermezzi in musica a quattro voci, composti dal musicista Versano, in stretto legame con Metastasio e protetto all'inizio della sua carriera romana, tra l'altro dal cardinale di York. In generale, la frequentazione dei teatri romani, l'Argentina, l'Alibert, il Tor di Nona, Capranica, il Valle, il Pace e il Pallacorda, spaziando dalle commedie di Goldoni alle musiche di Piccini, è rassidua per i britannici, alcuni dei quali, come Thomas Jones, ricevevano consigli sugli spettacoli direttamente dal famoso attore dell'inglese, David Garrick, direttore del King's Theatre. Un denso spaccato dei contatti sui temi musicali degli ambienti britannici a Roma lo fornisce Charles Barney nel suo viaggio musicale in Italia. Tra settembre e ottobre Barney entra in contatto con l'abbate Grant, poi con Norton, Morrison, Byers, presso il quale vede il progetto per la residenza di Wine, con Piranesi e dice mi fece vedere sette strumenti antichi di cui mi diede i disegni, con Fusley, Jenkins, che lo presenta al Cardinale Albani, con Batoni, definendolo il celebre vittore che tutti gli stranieri vanno a trovare e che ritrae infatti in pochi anni oltre 200 dei visitatori inglesi. Barney assiste, accompagnato da Leighton e altri inglesi, a quattro concerti in casa di William Beckford, che ospita il duca di Dorset, dove si esibisce il violinista Celestini. Qui si procura la partitura di opere di Leo e di Iommelli. Assiste a concerti frequentati da inglesi verso la casa del generale Moscovita Shuvalov e inoltre interessato dagli strumenti della Musurgia Universalis di Etanasius Kircher nel Museo del Collegio Romano, altra meta che, guarda caso, troviamo nel diario di Norris. Diversi luoghi di città nelle memorie di Barney destano curiosità e interesse. Ad esempio, il 26 settembre del 70, egli si reca nella residenza di Mr. Wiseman, che, riferisce Barney, viverebbe, secondo Barney, a Roma dal 1751, tanto da parlare un inglese approssimativo. Si tratta di Charles Wiseman, compositore, violinista e agente, potremmo definirlo musical broker, del King's Theatre. Amico dell'attore e impresario Gerrick, a Roma entra in contatto con Byers per il progetto del Palazzo Wine e con Ozia Sanfri, come riporta il documentato lavoro di Jan Woodfield sul King's Theatre del Settecento, che, l'autore Woodfield, anticipa però addirittura al 33 la presenza di Wiseman a Roma. Particolare interesse riveste la residenza di Wiseman, quella che da Barney viene definita Virra Raffaele, luogo che, almeno fino al 78, anno della morte di Wiseman, rappresenta un crucevia e un punto di riferimento degli scambi musicali tra Roma e Londra, e più in generale di quegli ambienti colti e derutiti che i quaringhi era solito un frequentare. La villa non va confusa con la casa di Raffaello, ossia Palazzo Caprimi in Borgo, né con la casina del guardaroba di Asprucci, sita in Villa Borghese, all'epoca, tra l'altro, ancora non realizzata, solo in seguito, denominata Casina di Raffaello. L'individuazione è resa possibile anche grazie dall'attenta lettura del brano di Barney, che vi leggo. Per raggiungere la villa Raffaele, fuori le mura, dovevo percorrere un lungo cammino su strada polverosa e infocata. La villa è ora occupata da un inglese che risiede a Roma da 19 anni, stimato da tutti gli inglesi di Roma. Si tratta di un certo Mr. Wiseman, pregevole maestro e copista di musica. Parla ormai in inglese scorretto, come quello parlato dagli italiani. La villa è grande, situata in una bella posizione nel centro del parco. Vi sono ancora alcune volte qualche pezzo di muro dipinti da Raffaello su di un intonaco ben levigato, fatto di polveri di marmo mescola da bianco d'uovo. Sul muro sono rappresentate la sua amante e parecchie figure maschili nude, assai espressive, che lanciano frecce verso un bersaglio. Vi sono pure degli affascinanti dipinti di carattere grottesco di Giovanni Daudine sul disegno di Raffaello. Durante i primi mesi dell'inverno, prima che abbia inizio la stagione dell'opera, Wiseman organizzano in settimana un concerto a cui assistono i membri della nobiltà e della borghesia inglese. Il defunto Duga de York, il principe di Brunswick e parecchi personaggi altolocati inglesi organizzavano concerti qui per la migliore società romana. Notizia quest'ultima che puntualizza il ruolo che la villa aveva assunto sin dai primi anni del Settecento, quindi, configurandosi non come luogo di incontro occasionale, bensì come consolidato centro culturale britannico nell'urbe e rivolto principalmente alla musica, ma come vedremo non solo, intessendo in tale ambito rapporti e scambi tra Roma e Londra. Il casino si trovava nella vigna Olgiati, situata fuori Porta Pinciana, tra le ville borghese e Manfroni, sul sito attualmente occupato dal galoppatoio. Negli stati delle anime della parrocchia di Santa Maria del Popolo risulta che un Giuseppe Wiseman, forse il fratello di Charles, vive nella vigna Olgiati fino al 1768 e che nel 75 vi risiede una colonna di pittori inglesi, tra i quali Maurizio Lowe. Allo stato attuale delle ricerche resterebbero da approfondire i rapporti contrattuali tra Olgiati, famiglia Olgiati, e britannici, che probabilmente detenevano in affitto la vigna. Dagli studi di Hamburger, Ravalli e Campitelli, che ignorano però la precedente presenza britannica, sappiamo che negli anni 80 la vigna Olgiati viene acquistata dal cardinale Giuseppe D'Orio Panfili. Nel 1786 egli incarica Francesco Bettini di progettare un parco all'inglese con piante esotiche, finti ruderigotici, pagoda cinesi, specchio d'acqua irregolare, isolotto con tempio d'orico, piramide, inglobando via al centro il casino di Raffaello e il vicino casino della vigna contigua alla Crivelli, lavori che si concludono nel 1793. Nel 1788 al lavoro appena iniziati Goethe ci lascia una dettagliata descrizione della casina definendola un monumento sacro dove quel genio, Raffaello, preferì godersi la vita in quarante d'arte e di gloria accanto alla donna amata ritrovandola 28 volte sulle pareti in ogni sorta di abbigliamenti e di costumi. Anche nelle composizioni storiche tutte le figure femminili assomigliano a lei. La posizione della casa è assai bella. Affermazione, quest'ultima confermata dalle numerose testimonianze iconografiche del manufatto e del suo ambiente, da Tiana, Corot, tra i quali spiccano i disegni e il tondo di Anger che evidentemente per disegnare si posizionava sulla terrazza di Villa Medici. Il forte legame con l'ambiente artistico britannico è testimoniato oltre che dall'entusiasmo di Banner relativa ai concerti e ai contatti con Wiseman che lo introdurrà negli ambienti musicali romani anche dall'interesse che come ovvio suscitano gli affreschi e suscitarono gli affreschi attribuibili alla scuola raffaellesca. Gemin Hamilton, sicuro frequentatore del luogo o comunque conoscitore di questo luogo, inserisce infatti nella scuola italica pitture le nozze di Alessandro Rossane incise da Giovanni Volpado nel 72 citandone la localizzazione extat Rome in edibus suburbanis marchionis solgiati. Nel 31 Camillo Borghese acquista la villa ormai in pessime condizioni con l'intenzione di inglobarne nella villa pinciana come testimoniato nei progetti di Canina. Già in rovina nel 36 quando i borghese fanno staccare gli affreschi parte dei quali ora conservati in galleria la villa viene demolita dopo rilevanti danni subita durante l'assedio di Roma del generale Udino del 49. in conclusione seguiamo ancora Barney nel suo viaggio musicale romano e torniamo in un luogo non distante dalla Vignolgiati che già avevamo analizzato all'inizio di questo intervento cioè la Via Gregoriana. Accompagnato da Wiseman il musicista si rega due volte nell'abitazione degli scozzesi Forbes il capitano John e la sorella pittrice Anne ritornando in un altro dei luoghi letti dei rapporti tra artisti romani e stranieri del secondo settecento appunto la Via Gregoriana risulta da Ingham che nel 1770 quando si rega a Barney risiedessero con loro anche i fratelli Runciman i Forbes vivevano in alcune stanze del palazzetto appartanuto a Salvador Rosa e mostrano a Barney spartiti di musiche antiche trascritti dal prittore e conservati dagli eredi secondo alcune fonti il palazzetto rosa si trovava nella parte alta di Via Gregoriana confinante con il giardino di Palazzo Zuccari notizia confermata anche da un rilievo fatto dalle tarui e come questo era affittato ad uso di studi per artisti l'area corrisponderebbe secondo alcune fonti ancora a quella oggi occupata da Palazzo Stroganov o dal palazzetto adiacente e trambi costruzioni di fine ottocento e con la costruzione di Palazzo Stroganov cioè a parte dell'attuale biblioteca erziana il palazzetto rosa viene praticamente svuotato e rifatto e obliterato nelle dimori del rosa tra l'altro alloggiò nel 78 Mengs già malato che vi morì l'anno seguente anche Thomas Jones risiedete qui al secondo piano al secondo soggiorno romano dal 79 con Pars che abitava al primo piano Jones dice la posizione era bella proprio sulla strada gregoriana il palazzo era stato fatto costruire dal famoso Salvador Rosa e adesso era di proprietà del discendente Augusto Rosa che abitava con la famiglia al terzo piano dice di essere architetto ma riusciva a malapena a guadagnare qualcosa facendo modellini in sughero dei luideri di Roma e dintorni affittando le parti migliori della casa le pareti di tutte le stanze erano tappezzate di paesaggio ed acquarello degli allievi del vecchio Salvatore lasciavano pur sempre traperare la genialità del maestro tale ultima notazione appare in linea con la fortuna che Salvador Rosa avrà proprio in Inghilterra dove era considerato tra i precursori del paesaggio sublime e romantico a giugno Pars si trasferisce a strada Felici in un appartamento vicino all'arco della regina Jones passa dall'appartamento lasciato libero da lui al suo posto subentra Mengs il primo maestro di Quarenghi malato che aveva appena lasciato il palazzo dei convertendi in borgo che aveva inglobato al suo interno palazzo Capì qui in via Gregoriana morirà Mengs il 29 giugno potrebbe esistere anche un legame tra gli appartamenti di palazzo Rosa e il dipinto raffigurante un baccanale piuttosto audace nella casa Cinzius Manzonius che vedete raffigurato qui in basso che vedete i protagonisti Serge Valdre e altri compagni di feste ma su questo avremo notizie più meditate e documentate nell'intervento che seguirà di Lynch e Valdre grazie grazie Fabrizio per questo bellissimo fresco possiamo certamente definirlo tale visto anche la ricchezza iconografica ora chiamo contemporaneamente sul al tavolo nei relatori e sia Brian Lynch che ci esporrà un contributo scritto o comunque meditato in comune con il professor Valdre ma anche Piervaleriano Angelini che in qualche modo è un modo complementare al contributo di Lynch e Valdre e ci illustrerà necessariamente in tempi più brevi di quanto l'interesse dei disegni che sono fanno parte di questo fondo Norris cioè sono disegni di cui poi la natura sarà in qualche modo si cercherà di illustrare le caratteristiche che comunque sono disegni fortemente hanno tangenze con quarenghi forti e comunque rappresentano al di là di quello veramente un mondo strettamente connesso a quello britannico e quarenghiano a questo punto quindi passo prima la parola Brian Lynch e poi seguire Pier Valeriano Angelini grazie